simpatica incursione quella di ieri 16 aprile 2018 durante la finale dell'isola dei famosi condotto da Alessia Malcusi infatti è arrivato il buon Valerio Stoffelli che ha consegnato il tapiro a Alessia che ha accettato però anche se a me sarebbe apparsa piuttosto incredula e avrebbe detto le seguenti parole accetto il tapiro ma neppure per la finale mi lasciate in pace il pubblico quindi avrebbe fischiato Stoffelli avrebbe finto di non capire non si fischia la padrona di casa così avrebbe detto Stoffelli poi avrebbe provato a parlare appunto dello scandalo che avrebbe travotto questa edizione dell'isola dei famosi 2018 e di tutte le polemiche che ci sarebbero state si ricorda avrebbe chiesto il buon Valerio a Alessia il video di Monte quello che abbiamo mostrato a striscia la notizia della confessione in Palapa Alessia avrebbe ammesso candidamente a un certo punto non vi ho visto più perché dovevo andare in onda e vedevo alcune cose che non mi piacevano Stoffelli avrebbe quindi insistito e l'avrebbe chiamata svicolona ma il pubblico avrebbe urlato a gran voce fuori fuori Alessia quindi avrebbe accettato il tapiro d'oro in questione e avrebbe congedato con un sorriso il simpatico Valerio Stoffelli e alla finale lasciamo spazio ai concorrenti quindi il simpatico Valerio avrebbe baciato la Cipriani poi sarebbe uscito da questo reality show l'isola dei famosi il video termina qua iscrivetevi se volete commentate questo sarebbe quanto questo video non vuole in alcun modo, in alcuna maniera violare la privacy di Alessia Marcussi né di Valerio Stoffelli ma solo informare eventuali persone di quello che sarebbe accaduto ieri nella finale dell'isola dei famosi 2018 grazie e cordiali saluti e al prossimo video